invece i reteghi attenzione io quello che dico che secondo me è quello più nove dei nove che ti puoi portare se immobile non è considerato leggibile per questioni anagrafiche di sicuro lo è soprattutto in una squadra magari meno di palleggio e meno da 4 2 3 1 cioè se un 4 2 3 1 in cui c'entra avanti deve essere mertens è chiaro che il mio nome non è vero ma in questo 3 5 2 secondo me reteghi può fare il centro avanti sono chi davvero il chiesa zaniolo della situazione no 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 ne faccio 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 un discorso di ruolo no tipo chiesa raspadori bravissimo bravissimo chiesa raspadori per me comunque per giocare valla a terra è comunque il migliore che abbiamo al cento per cento se invece dobbiamo fare una cosa in cui serve uno che riempia l'area e che abbia la garanzia che in quelle 6 7 partiti all'europeo 2 3 gol te li fa reteghi